Sono temi che Fratelli d'Italia pone ormai da un anno, eppure siamo stati spesso inascoltati. Così come siamo stati spesso favorevoli alla produzione di vaccini in Italia, un tema che altre nazioni si sono poste fin da subito all'indomani dello scoppio dell'epidemia e che noi invece abbiamo ignorato, nonostante in campo farmaceutico l'Italia rappresenti da sempre una eccellenza assoluta. Probabilmente se ci fossimo mossi per tempo oggi saremmo già in grado di produrre vaccini anche qui. E invece niente. Ora serve programmare la riapertura, perché noi non possiamo immaginare che il lockdown e le chiusure siano la nostra normalità. Penso ad esempio al tema del certificato verde digitale. Siamo stati i primi a sostenerlo, ci auguriamo... Siamo stati i primi a sostenerlo, ci auguriamo... Auguriamo che venga adottato il prima possibile in un orizzonte di totale reciprocità con tutti gli altri Stati europei. E' una... Il passo, ho già detto di non essere d'accordo, non sono d'accordo perché la considero una misura inefficace, una misura economicida, una misura che devasta il nostro turismo. Nasceva da parte dell'Unione Europea come tentativo di favorire il turismo. Grazie. 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 Grazie.